Buongiorno, dovremmo avere al telefono Antonio Ferrari. Buongiorno a voi, buongiorno. Buongiorno Antonio. La scorsa settimana si parlava ancora di un possibile default della Grecia, poi di aiuti dalla Russia, mentre oggi i giornali scrivono che l'Unione Europea metterà in campo 18 miliardi per il salvataggio della Grecia. Cosa dobbiamo aspettarci dal vertice di oggi? Ma io da sempre, non da oggi e neanche da ieri, ma da più di un anno sostengo che una Grexit, per quanto ho capito, vivendo anche in Grecia, è praticamente impossibile. Ma è impossibile per due ragioni. Primo, che sarebbe molto grave, il paese si scola dall'area Euro. E il secondo, perché chiamiamolo contagio, chiamiamolo crisi di sistema, questo significherebbe l'inizio della fine di quasi tutto l'impianto europeo. Quello che oggi c'è da aspettarsi è questo, c'è io credo un atteggiamento più realistico, la Grecia tupiano finalmente è così, che ha un senso e che non sono solo parole. Dall'altra parte c'è anche questo avvicinamento con la Russia dovuto anche al prolungamento del famoso South Stream per portare il gas dalla Russia alla Turchia e farlo arrivare alla Grecia. Poi gli sta forse un giorno anche all'Italia e questo significherebbe anche un potenziale aiuto da parte della Russia. Però questo aiuto potrebbe anche essere qualcosa di più, cosa che l'Occidente non può accettare in un momento di estrema tensione con la Russia a causa dell'Ucraina e anche a causa di altre vicende. Quindi abbandonare la Grecia e lasciarla magari scivolare in parte tra le braccia della Russia sarebbe un altro punto estremamente negativo non soltanto per l'Unione Europea che ha preso delle posizioni dure, ma anche per gli Stati Uniti. Ecco perché la fretta con cui si è rifatto un Eurogruppo che andrà in onda tra poco, tra pochissimo e addirittura un Eurosummit a livello di capi di Stato e di governo, e io credo che questo sia il prologo ad un accordo compromesso che in qualche modo salvi capra e cavoli, come si dice con un luogo comune, senza umiliare nessuno. Io credo che già l'apertura dei mercati terrà conto di questo nuovo clima che si sta disegnando dopo troppe emozioni e troppo essere emotivi, perché essere emotivi è quello che ha portato i greci, i greci che sono strazzati da questa attesa a ritirare dalle banche tutto il possibile, e metterlo in cassetta di sicurezza e oppure sotto il materasso proprio perché i greci credono nell'Euro, nonostante abbiano votato un partito che a volte è stato euroscettico, io credo che questa giornata potrebbe, dico potrebbe perché ormai le sorprese sono sempre all'ordine del giorno, ma a mio avviso potrà, anzi io ne sono praticamente convinto, ci scommetterei, e se è una giornata positiva perché finalmente usciamo da un tunnel in fondo al quale non si vedeva nessuna luce. Grazie Antonio, sei stato chiarissimo. A voi, buona giornata. Buona giornata, buon lavoro.